Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, in provincia di Massacarrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. In FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone, possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. In conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, raccomandiamo a tutte le persone di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari, secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!